Salve! Ma... tu chi sei? Sono un semplice arbusto vagante. Chiamatemi Saggio. Saggio. Ciao, Saggio! Bel nome. Grazie. Sono fatto di saggina e sono saggio. Funziona molto bene. Io sono Patrick. Il mio nome vuol dire tostapane, inceltico. Questo non funziona. Il sogno in cui vi trovate ha un doppio scopo, giovani cercatori. Ah, allora stiamo sognando. E io, amico mio, sono il tessitore di sogni. Wow, sei entrato nella nostra mente adesso? Sì, Patrick. Sono qui per assisterti nel tuo viaggio, SpongeBob. Ma prima dovrai affrontare una sfida. Ma... voglio solo trovare Gary e portarlo a casa. Tu vuoi bene a Gary? Più che a chiunque altro. Giovane Spugna, se saprai affrontare la sfida, potrai continuare a cercare il tuo adorato Gary. Oh, sì, 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 ho capito. Adesso capisco. Ehi. Prendete la moneta della sfida. La moneta della sfida? Vi darà coraggio quando questo inizierà a mancare. Wow. E ora, la sfida avrà luogo dietro le porte di questo saluto. Andiamo! Danny Patrick, approfondiamo la sfida! Ragazzi, aspettate! Moneta della sfida in arrivo! Non vi ho ancora detto qual è la sfida! Pazienza, saggio. Pazienza. Oh! 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 Sono zombie cowboy pirati mangiacarne per la precisione Zombie cowboy pirati mangiacarne Questa è la vostra sfida Aiutate questi zombie a liberare le loro anime dagli incoli carrivi Se non fosse tutto un sogno darei di matto adesso Oh già! La la, stiamo sognando Ok ragazzi Siamo qui per liberare le vostre anime Cos'è? Ah, il diablo il malvagio sta arrivando È il diablo È il diablo È il diablo È il diablo Cattione È il diablo È il comandante di questa ciurma Non suona bene Auguri? Patrick, ci sono zombie dappertutto C'è il diablo C'è il diablo C'è il diablo È colu di 벌써 Ma Gesù È il diablo È il diablo Il diablo S بد C'è il diablo È il diablo È il diablo Quante volte vi ho detto che non si balla quando io non ci sono? Ma boss, oggi è il Freestyle Friday! Ok, va bene. E io Spongebob, io me la smammo. Veditela tu. I prigionieri nel mio ufficio. Oh, che avrò voluto dire con prigionieri? Oh, che avrò voluto dire con prigionieri? Oh, che avrò voluto dire con prigionieri?